Ciao! Ciao! Su, giù! Ehi, ma... Tutto bene? Sì, non c'è male. Ti va di giocare? C'è qualcosa che non va. A noi puoi dire tutto. Nel mondo di sopra oggi si festeggia la giornata dell'amicizia e Angela ha deciso che non vuole più essere mia amica. Angela? Ma se siete super amiche! Sì, lo pensavo anche io, ma... Mignora! Ci deve essere un malinteso. Scopriamo di che si tratta. Non c'è niente da scoprire! Di dry che andrà tutto bene, non ti preoccupare. Coraggio, andiamo a cercarla. Va bene. Stai tranquilla, Olga, ti stemmeremo tutto quanto. Grazie! Guardate, è Angela! Oh, no! Ciao, Angela! Ciao, Venuce, dai! Rosa mi sta aspettando! Dai, Angela! Angela, siamo qui! No! Olga? Presto! Soffiami via, in fretta! Wow, è stato strano! Che cosa vi avevo detto? Deve esserci un malinteso, ne sono sicura. Risolveremo tutto. E va bene. Guardate, Angela! Che ci fa con le ziette? Non capisco, aveva detto che sarebbe andata da Rosa. Oh, what? Tieni qui, lupolaccio! Stavo scherzando, sorellina! Ma che si è? Dove vai? Vediamo chi ride adesso. Oh, no! Agire! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Deve scoppiarlo! Oh, no! Oh, mi fido un sastro! La mia amica si sta divertendo un sacco sezzo di pe! Ciao, Angela! Ti stavo aspettando, dov'eri finita? I nostri colorati me ne ero dimenticata! Quindi è vero, stava andando da Rosa prima di incontrarci. Così sembrerebbe! Io ve l'avevo detto! Angela non vuole più essere mia amica! Forse hai fatto qualcosa che l'ha fatto arrabbiare, non credi, Olga? No, non che io sappia! Forse è solo molto impegnata! Oh, ma che sta succedendo? Guardate! Guardate! Sono una mummia! Anch'io, anch'io! Coraggio, brava! Voglio scivolare anch'io nel tubo! Sono incastrato! Questi giochi sono fantastici! Sono una meraviglia! È vero, li adoro! Wow! Andiamo a giocare tutti insieme! No! Non me l'hanno chiesto, quindi non voglio giocare con loro!